Lo stadio di San Siro ha compiuto 90 anni, le tecnologie come ci aiutano a capire il suo stato di salute? Bene, lo stadio ha compiuto 90 anni e li porta direi decisamente bene. Lo stadio di San Siro rimane una delle strutture più affascinanti e più belle tra tutti gli stadi del mondo e sicuramente richiede una manutenzione particolare perché vi si tengono un numero enorme di eventi durante l'anno. Così come per un'automobile sportiva è necessaria una manutenzione molto più accurata rispetto a quella di un'automobile normale, anche lo stadio richiede delle cure particolari. Oggi il progresso nel mondo dei sensori e dei sistemi di acquisizione dati permette una serie di indagini che fino a qualche tempo fa erano impensabili. Si parla di Structural Health Monitoring, questa parola health richiama in un parallelo allo stato di salute delle persone e questo è molto importante perché permette di capire qual è la strategia di approccio a questo problema perché così come noi facciamo delle analisi non necessariamente perché siamo malati, anche in questo caso abbiamo una serie di controlli che ci permettono di capire se la struttura è in salute oppure no. Questo parallelismo viene mantenuto in tutto e per tutto quindi il fatto di avere anche una struttura densamente sensorizzata non significa che noi siamo in grado di riconoscere tutti gli eventuali malfunzionamenti e il vero progresso dei nostri giorni consiste nel fatto che così come abbiamo l'elettrocardiogramma e abbiamo l'olter che è un controllo continuativo, anche per le strutture da un controllo puntuale nel tempo si è passati a un controllo continuativo. La struttura è in grado di dirci da sola se sta bene o se non sta bene e quindi siamo in grado di prendere le necessarie contromisure in maniera tempestiva. Non deve avere fragilità perché una struttura del genere ospita 40-50 mila persone due volte alla settimana nel corso di tutto l'anno quindi lo scopo di questo lavoro è proprio quello di evitare il prima possibile che esista qualunque tipo di fragilità. E quanto è importante la ricerca in questo campo e quali altre applicazioni può avere? La ricerca è importantissima perché al giorno d'oggi c'è tutta una serie di parole diciamo di moda che vanno dalle smart structures ai big data all'internet of things, sono tutte parole che richiamano applicazioni che dentro allo stadio vengono effettivamente svolte ormai da anni. La cosa importante da segnalare è che comunque la struttura non potrà mai essere più intelligente di quanto lo siamo noi, è semplicemente questo sistema di monitoraggio molto più attento di noi nel riconoscere delle situazioni anomale. Però per noi devo dire è stata una bellissima palestra nel corso di tutti questi anni, è un laboratorio a cielo aperto praticamente insostituibile. Queste tecniche di monitoraggio strutturale oggi trovano una diffusione amplissima, trovano un interesse molto grande perché portano per l'appunto verso quelle strutture che noi chiamiamo intelligenti, cioè in grado di autodiagnosticarsi se qualche cosa non va. Si tratta di approcci tipici per i ponti per esempio, per gli edifici alti, Milano non è molto ricca in questo momento, siamo impegnati anche su alcuni di questi edifici, quindi l'idea di avere un controllo continuativo e puntuale è un qualche cosa che sta entrando nella cultura generale probabilmente molto presto, quasi tutti gli edifici avranno controlli di questo tipo. Grazie. 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 Grazie.